La lista di Fratelli d'Italia è una lista molto radicata sul territorio, è un meritocratico che fa valere sostanza di governo, di presenza, non è un caso che uno dei valori aggiunti che Fratelli d'Italia è la gestione di Roma, perché Roma è un comune, è una realtà estremamente complessa, ad oggi gestita con gli stessi potenti, è per esempio assolutamente folle, io lo cito spessissimo, dal fatto che qui arrivano ogni anno, ci sono esempi addirittura surreali, il tevere di competenza del comune è un altro verso di competenza della regione, addirittura c'è un tratto in cui la pista ciclabile, il lato della pista ciclabile è di competenza della regione, risultati che in Italia possono fare la differenza. Io voglio ringraziare per quello che riguarda la lista di Fratelli d'Italia, non c'è stato purtroppo posto per tutti, perché insomma c'era e c'è grande entusiasmo, grande voglia di partecipare. Sicuramente difficile, ma sicuramente altro testo, un centro extra purale, maggioritario.